. Anticipazioni Grande Fratello 2018 del 30 aprile, ecco chi sarà squalificato. Stasera, lunedì 30 aprile, terza puntata in diretta con il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. . Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo nuovo appuntamento è a dir poco attesissimo dal pubblico che segue il reality show in tv. Dato che finalmente scopriremo quali sono i provvedimenti della produzione nei confronti dei concorrenti che hanno avuto degli atteggiamenti violenti verso Aida Midzar. . Noi seguiremo la puntata di questa sera del GF 15 in diretta minuto per minuto, restate con noi per scoprire tutto quello che succederà in diretta. . Buffer al Grande Fratello 2018, scattano le squalifiche. . Le anticipazioni di queste ore sul GF 2018 rivelano che in vista della puntata di questa sera. . . La produzione ha già chiesto a tutti i concorrenti di farsi le valigie e quindi in un certo modo ha svelato loro che questa sera tutti sono a rischio eliminazione o per meglio dire squalifica dal gioco. . La produzione, infatti, non vuole assolutamente che passino determinati messaggi di bullismo e violenza e per questo motivo intende. . Punire severamente i concorrenti che hanno umiliato, insultato e moritificato Aida Nezzari in questi giorni. . Ecco chi sarà squalificato stasera dal GF 15. . Stando alle indiscrezione delle ultime ore, la produzione del Grande Fratello 2018 in accordo con Barbara Durso e Mediaset avrebbe già deciso di squalificare definitivamente Bai e Dame e Luigi Favoloso. . L'appuntamento per scoprire i provvedimenti ufficiali della produzione è fissato per questa sera in Prime Time su Canale 5 e qui su Blasting News. . . . . . . . . . Grazie a tutti.